L'hai vista la pubblicità di Ibrahimovic che promuove le gomme da masticare per aumentare la concentrazione e l'attenzione alla memoria? Non mi esprimo sul prodotto singolo che non ho provato ma mi sono andato a guardare gli studi e come al solito mi hanno sorpreso. Masticare le gomme mentre studio, mentre fai attività impegnative per il cervello, ti aiuta. Fai scorta. Aumenta l'afflusso di sangue al cervello aumentando la velocità di reazione fino al 10%. E ci sono pure un sacco di studi, non lo sapevo, ai partecipanti, è stato chiesto di masticare o non masticare le gomme mentre facevano compiti cognitivi impegnativi. Per 30 minuti di seguito i risultati sono stati chiarissimi come raramente succede negli esperimenti. Erano proprio studenti universitari. Prima di tutto avevano meno stress e meno ansia. Erano più attenti, più a lungo, più veloci a reagire e avevano più memoria, cioè ricordavano di più di quello che stavano leggendo o studiando. Ci aveva ragione la pubblicità della Fruit Joy. Devi, 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 devi masticare.